In quest'area di Pontassieve acquistata dal Comune sorgerà entro la fine del 2021 un centro di ricerca e sviluppo specializzato in energie rinnovabili e biocarburanti. Lo hanno annunciato il presidente della regione toscana Eugenio Gianni e la sindaca Monica Marini firmando il relativo accordo di programma alla presenza dei sindaci dell'area sud-est di Firenze. Un atto molto importante, non a caso tutti i sindaci della Val di Sieve e del Valdarno Superiore Fiorentino sono qui riuniti perché si tratta di creare un insediamento nell'area artigianale di Pontassieve che in realtà indica in quello che sarà il soggetto produttivo una visione di economia circolare che consentirà di portarci in questo territorio all'innovazione proprio sul piano dell'economia circolare e delle soluzioni più innovative. Sarà naturalmente un centro dove si svolglieranno ricerche a servizio delle imprese quindi proprio l'importanza, un'importanza strategica che in qualche modo dà una grande centralità al comune di Pontassieve rispetto al territorio a sud-est di Firenze. Quindi siamo molto soddisfatti e insomma non vediamo l'ora di cominciare grazie a questo contributo. L'edificio dove avrà sede il centro è stato progettato nel rispetto dell'energia sostenibile e ospiterà uffici, laboratori e un'area sperimentale. La regione contribuirà con 900 mila euro e anticiperà anche i fondi necessari per il progetto esecutivo. La fondazione Cassa di Risparmio coprirà con 75 mila euro il resto delle spese mentre il comune si occuperà delle opere di urbanizzazione. Al di là dell'addizione delle energie rinnovabili in realtà qui si parla di bioeconomia, della necessità cioè di integrare fortissimamente l'uso delle risorse per esempio del settore agricolo, agroforestale, con tutto ciò che riguarda l'economia. Ai margini della città metropolitana questo è un luogo strategico e sarà sicuramente prezioso per lo sviluppo di questo territorio. Grazie.